per la ventunesima giornata del campionato d'eccellenza girone B quinta di ritorno al del buffa arriva la castiglionese formazione eh che di Castiglion Fiorentino che viene da una sconfitta brutta in casa per 4-2 contro la aglianese mentre guardano football club invece di mister Anselmo Robbiati che viene fuori da una vittoria importante quanto di morale sul campo difficile della Sinalunghese per 2-1 rientra Menchetti capitano Menchetti per Iviola per mister Anselmo Robbiati molte le assenze tra squalifiche ed infortunati benvenuti ultima giornata fuori dalla campo per Mencagli compreso l'attuale ci saranno altre due giornate da eh da scontare ritornerà a disposizione forse la prossima settimana eh prosperi mentre per Bigeschi bisogna aspettare il referto medico quindi abbastanza importanti le assenze infanti tantissimi giovanissimi in panchina a partire dal 1998 fino addirittura al secondo portiere che è un 2001 direzione di gara affidata a una terna arbitrale di Prato del signor Edoardo Manedo Mazzoni quadruvato dalla signora Tosca e dal signor Alfieri di eh appunto tutti di Prato poco il pubblico presente al del Buffa si parte subito il Valdarno Football Club ad essere pericoloso con Meccocci che si gira bene ma la conclusione è facile presa dell'ex Poponcini uno dei due ex presenti in campo con la maglia viola l'altro è Sexeni al ventinovesimo minuto Sexeni proprio eh trova in profondità padri Parrini che riesce a concludere ma tra le mani di Alterini alla trentesimo minuto Pavani ci prova da fuori area con eh centrale presa facile per l'estremo difensore Viola Poponcini al trentatresimo punizione di Meccocci che cerca Bega centrale difensivo che ci arriva ma è di poco anticipato dallo stesso Parrini al trentottesimo minuto Mirante perde palla e Redi serve subito in profondità Parrini che per fortuna dei giallo azzurri non aggancia al quarantacinquesimo minuto azione partita da punizione con la sfera che arriva a Borsi che da due passi per eh preso anche in contropiede non riesce ad imprimere forza ferma Alterini senza problemi finisce così il primo tempo su uno zero a zero un primo tempo dove la Valdarno Football Club ha tenuto maggiormente il palino del gioco ma con molte imprecisioni ripresa a formazione invariate alla quinto minuto e ancora il Valdarno Football Club a farsi pericoloso Meccocci servito da Mirante si libera dell'avversario ma al sinistro è alto sopra la traversa al tredicesimo minuto Travaglini di prima cerca Pavani Sorrentino cicca in intervento aereo e a palla che arriva al numero nove giallo in aria da dietro lo affronta eh Tenti che lo tocca e va a terra primo assistente il signor Xersino Tosca che indica immediatamente il rigore e arriva anche il fisco il direttore di gara dal rischetto va Gabriele Pavani che non sbaglia e porta in vantaggio la Valdarno Football Club al diciassettesimo minuto Fontana si libera degli avversari e decide di dare sulla destra a Meccocci ma il sinistro del compagno è fiacco e tra le mani di Poponcini al diciannovesimo minuto Sorrentino in alleggerimento mette un pallone interessante a Pavani ma il numero nove che conclude fuori aria e Sorrentino che deve lasciare il campo per uno strappo muscolare quando sembrava ormai tutto verso la vittoria della formazione dei gialli c'è un pallone che sta per andare in fallo laterale Tenti ci credi sulla linea del fallo e inventa un passaggio d'oro su Rossi che è entrato in aria non sbaglia il pareggio uno a uno Valdarno Football Club che in questa azione si trova fuori posizione perché pensava che la palla fosse ormai oltre la linea del fallo laterale bravo attenti che ci ha creduto fino in fondo quattro minuti di recupero non cambiano il risultato due punti persi per le Valdarno Football Club un punto guadagnato per la formazione della Castiglionese senza ombra di dubbio una gara non delle più belle viste per la formazione di casa ma bisogna dire la verità un pareggio forse è il risultato giusto per quello che si è visto in campo Giacomo Falsina in seconda beh insomma oggi è giusto anche che venga lei vieni te dai ci diamo del tu tu venga tu visto che c'erano tantissimi 2.099 nella formazione Valdarno Football Club che hanno fatto anche il loro esordio insomma una partita che sembrava potesse andare in fondo con una bella vittoria poi questo gol anche tutto sommato meritato della Sena Lunghese per il pareggio ma intanto per quanto riguarda i 2.099 che erano in campo e in panchina è un orgoglio per la società e per tutta Figline credo quindi debba essere uno spunto di riflessione deve essere una cosa anche bella per i figlinesi avere tanti giovani nella rosa della prima squadra e poi per quanto riguarda la partita purtroppo è arrivato questo pareggio all'ultimo respiro e sinceramente lascia molto l'amaro in bocca perché non avevamo subito poi così tanto secondo me contro contro la Castiglionese quindi questo pareggio ci lascia ci lascia molto amareggiati ovviamente però insomma non facciamo non facciamo drammi e la prestazione della squadra credo che sia stata buona ripartiamo da questo insomma ripartiamo dalle cose positive che abbiamo fatto e andiamo avanti con fiducia. Tante le assenze ma non questo ha fatto sì che ci sia la giustificazione di una gara non di quelle più belle che abbiamo visto della Valdano Futuro? Sì tante assenze ma chi ha giocato non è che ha fatto sentire la mancanza quindi sì forse un po' di brillantezza ci è mancata soprattutto nel primo tempo ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene credo quindi le assenze diciamo che non hanno pesato così tanto ecco assolutamente. Adesso c'è da tornare in campo domenica prossimo contro una partita contro una squadra importante difficile terreno sintetico a Grassi. Sì la partita sicuramente è stimolante perché giochiamo contro un'ottima squadra una grande squadra direi quindi in un campo sintetico quindi la partita da darà tanti stimoli a tutti e sarà una bella partita perché insomma noi abbiamo da da confermare le nostre buone prestazioni. Grassi autore del gol sul calcio di rigore hai subito il calcio di rigore al di là di questo un pareggio che lascia la mano in bocca due punti persi perché subire il gol del pari a tre minuti alla fine comunque dispiace erano tre punti e potevano essere importanti in vista poi della gara di domenica Grassi. Sì dispiace perché per come si era messa la partita eravamo riusciti a sbloccarla nel secondo tempo e poi avevamo anche amministrato bene il vantaggio e controllato insomma l'offensiva della Castionese. Dispiace perché così all'ultimo minuto poteva essere evitato ecco quello sì però ecco purtroppo questo è il calcio e dobbiamo andare avanti e guardare la prossima partita con la testa alta. Il primo tempo dopo la Valdarno Football Club ha sempre gestito il pallino ma è sempre stata molto imprecisa un secondo tempo invece dopo la Valdarno Football Club ha fatto vedere soprattutto dopo il gol chi è la Valdarno Football Club. Sì nel primo tempo siamo stati un po' più imprecisi in fase di costruzione abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio diciamo poi nel secondo tempo siamo riusciti a prendere un po' più in mano le retini del gioco e siamo venuti un po' più fuori ecco non a caso infatti abbiamo sbloccato la gara in un episodio che è tornato a nostro favore quindi dobbiamo ripartire dobbiamo ripartire a testa alta dispiace però ecco prendiamo di buono quello che abbiamo fatto e guardiamo la prossima gara con Grassina che sarà anche una partita difficile. Il campo sintetico può creare qualche differenza qualche problema in più? Sinceramente no noi siamo una squadra tecnica e credo che il campo non sia sicuramente un problema e la squadra a Grassina è una buona squadra quindi dovremmo andare la viso aperto giocarcela come tutte le partite. Parliamo delle assenze perché le assenze ci sono da tutte le parti e soprattutto chi ha giocato ha meritato di giocare al posto di chi mancava però tanti ragazzi giovani in panchina 2099. Sì siamo in un momento dove ecco un po' di assenze ce l'abbiamo però la rosa è ampia e abbiamo compensato insomma con le persone che hanno sostituito i squalificati infortunati quindi quello non non è sicuro un motivo di per ecco per non essere al top. Quindi noi siamo una rosa forte e chi gioca gioca insomma siamo in grado di vincere con tutti. Dino Fabrini di gare così ne abbiamo viste e ne ha viste tantissime purtroppo la Valdanno Football Club è incappata in una gara dove pensava di avere mai raggiunto i tre punti e poi ci hanno creduto perché tenti sulla linea del fallo laterale ha recuperato un pallone che ha messo tutti in difficoltà nella parte difensiva e Rossi ha segnato il pari. Sì ha detto bene dispiace perché ragazzi sotto l'aspetto dell'impegno erano meritevoli i tre punti però sono queste gare soprattutto il ritorno che possa capitare tra l'altro noi a Borgo San Lorenzo contro la prima della classe abbiamo recuperato una partita in estremis che non ci credeva più nessuno abbiamo abbiamo avuto sfortuna nell'episodio però purtroppo bisogna accettarlo anche se un po' con un po' da male in bocca ma dispiace soprattutto per ragazzi e sono che si meritavano tre punti però sono gare possano accadere abbiamo la possibilità di andare a grassina e cercare anche di rifarsi perché questa è una squadra che sotto l'aspetto della prestazione ci deve dare fiducia poi ovviamente ci sono questi episodi che 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 possano accadere nel calcio ha detto bene soprattutto il ritorno dove una squadra la stiglionese ovviamente non ha mai mollato e poi ha avuto anche un attimino di fortuna in questo episodio ecco chi rientrerà domenica quale sono gli infortunati o comunque le squalificate che recupererà la Valdano Football Club malgrado oggi chi li ha sostituiti ha dato il massimo sì sicuramente bisogna elogiare i ragazzi che hanno sostituito quelli che sono mancati perché vuol dire che la rosa è soprattutto importante ma ha avuto spazio anche alcuni ragazzi della società che rientrano il progetto iniziale di cercare di valorizzare il più possibile anche i giovani del settore giovanile e oggi se vedi la panchina 2.099 e 2.98 credo che questo ci debba anche portiere scusatino 2.001 esatto quindi questo credo ci debba anche non dico restituire il punto però è importante proseguire il progetto della società avuto per quanto riguarda gli entri allora mencagli purtroppo ancora dovrà scontare una giornata di squalifica però recupereremo sicuramente se non vado errato benvenuti e dobbiamo vedere le condizioni di Bigeschi che saranno valutate all'inizio della prossima settimana rientrerà a disposizione Cristian Prosperi perché ha scontato il turno di squalifica e quindi contiamo di avere l'organico al completo perché andiamo a giocare una gara contro una squadra contro un'ottima squadra soprattutto con dei giovani interessanti che in casa loro vorranno dire la loro campo sintetico ma soprattutto piccolo a Grassina un vantaggio o uno svantaggio con una squadra tecnica come quella di Valdano Football Club? ma sai dipende sempre da come poi la prendiamo perché Grassina si sa tutti che in casa è una squadra temibile anche perché sfrutta molto questo fattore ambientale però noi dobbiamo questa è una squadra che ha del carattere quindi andiamo anche a cercare di rifarsi per prendere i punti che abbiamo lasciato oggi grazie grazie